Il territorio della suggestiva Val Canale Immerso in un paesaggio lussureggiante ed incontaminato Nasce Malborghetto Val Bruna Il territorio comunale comprende anche le frazioni di Ugovizza Bagni di Lusnizza, Val Bruna e Santa Caterina Fulcro della vita religiosa è la chiesa della visitazione di Maria Vergine Percorrendo la via principale di Malborghetto ci imbattiamo nel palazzo veneziano Oggi prezioso museo etnografico Spostandoci verso la frazione di Ugovizza è possibile vedere da lontano i resti del Fort Ensel Giunti all'interno della frazione è possibile ammirare la monumentale chiesa Intitolata i Santi Filippo e Giacomo Meta di pellegrinaggi è il Monte Lussari Che ospita il santuario della Madonna di Monte Lussari La casa Ober Richter è uno dei più fulgidi esempi di strutture ricettive ai massimi livelli per comfort ed ospitalità Malborghetto Val Bruna Con i suoi paesaggi alpini incontaminati Rappresenta una tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del turismo Rappresenta una tappa irrinunciabile per lontano i resti del Fort Ensel Rappresenta una tappa irrinunciabile per lontano i resti del Fort Ensel